Riti settennali di penitenza in onore dell'assunta, siamo a Guardia San Framondi dopo una settimana di eventi, oggi è la processione principale. Riti settennali a Guardia San Framondi, settimana di penitenza. Sì, settimana di penitenza, di gioia, di affetto perché la penitenza per il cristiano è certamente una festa. Quindi io in un'altra occasione ho detto che è un giubileo della penitenza. A questa settimana ci si è preparati nell'arco di un settennio perché ogni primo sabato del mese c'è la veglia all'assunta e quindi c'è questa preparazione che arriva fino ad oggi. Le prime testimonianze storiche di questi riti? Le prime testimonianze storiche rimontano intorno all'anno 1600, più o meno, quello che si riesce a capire, ma non ci sono documenti precisi che partono con date certe. Momento solenne e affascinante per la comunità di Guardia? Certo, aspettiamo sette anni per vivere questo momento intenso. Tutta la comunità si adopera per portare un messaggio all'esterno, una grande processione, una grande rappresentazione di fede popolare e soprattutto un momento di grande gioia perché anche se è di penitenza per noi è una festa, è una festa dell'assunta. Riunisce la comunità intera? Sì, intanto perché già l'intera processione coinvolge circa 3.000 persone tra organizzatori, cori, figuranti, oltre che i penitenti. Quindi già di per sé noi siamo una comunità di 4.500 anime, non siamo solo noi di guardia, ma anche, diciamo, riceviamo anche il contributo dei paesi intorno che ci danno appunto un contributo nel organizzare i riti ed è una cosa, diciamo, di guardia ma di un intero territorio. Una macchina organizzativa importante che finora sta funzionando egregiamente? Sì, diciamo che le incombenze sono state tantissime e appunto ne approfitto per ringraziare le tante persone che si sono adoperate per garantire la sicurezza a partire dalla Croce Rossa italiana, a partire dalla protezione civile, i vigili del fuoco, ma soprattutto è stato importantissimo il contributo organizzativo di indicazioni da parte delle forze dell'ordine, quindi da parte della Questura, della Prefettura e di tutti i funzionari che sono stati coinvolti, che ringrazio veramente di cuore a nome di tutta la comunità. Riti settennali, settimana di penitenza, anche con un autore RAI qui a Guardia San Faramondi. Sì, ormai io sono di San Lorenzo Maggiore, sono un po' di anni, già un po' di edizioni che veniamo qui a Guardia, ho anche partecipato negli anni scorsi, poi negli ultimi anni il percorso lavorativo mi ha permesso di fare altro, però quest'anno vengo da spettatore perché i riti di Guardia meritano sempre, vanno visti con tanto rispetto, con tanta fede e per scoprire una giornata che comunque sia, a prescindere, resta sempre nella memoria, nella memoria delle persone, è una cosa che ti porti dentro per tutta la vita, quindi io l'invito sempre di venire in questa giornata, anche se può essere un po' faticosa perché siamo in un periodo caldo dell'anno, ma veramente te ne vai a casa e vai a casa molto più arricchito di come sei venuto. È un momento di fede molto intenso per la comunità dell'intera Valle Telesina. Sì, non solo la Valle Telesina, questo è un evento a livello nazionale e internazionale, la Valle Telesina poi si concentra e devo dire è un'ottima organizzazione, io giro anche l'Italia a diversi eventi per lavoro, devo dire che veramente c'è stata un'ottima organizzazione, tutto il territorio si concentra per questo evento e quindi voglio fare innanzitutto i complimenti e buoni riti a tutti. Beh, è un evento assolutamente straordinario per il Sannio, per la Campania ma credo per l'intero Paese perché questi riti di penitenza dell'Assunta che sono unici al mondo rappresentano sicuramente un evento straordinario appunto per il Sannio, la Campania e il Paese. Vedo grande partecipazione, grande attenzione religiosa quindi sicuramente qualcosa di molto molto positivo per il territorio, spero però che questa partecipazione, questa attenzione in questa giornata possa rappresentare un volano anche per il futuro. spero che non sia un qualcosa fino a se stesso ma rappresenti un'attenzione per il Sannio. Le strade di guardia iniziano a pullulare di gente, tanti turisti fedeli e anche curiosi. Fede e riti pagani? Allora sicuramente uno dei concetti importanti dell'antropologia è che un fenomeno complesso va osservato e mai giudicato, quindi questo fenomeno che è un fenomeno complesso che coinvolge un'intera comunità di guardia Sanfromonti va osservato con rispetto, senza giudizio e poi ognuno di noi trae le proprie deduzioni che rimangono proprie ma il fenomeno va osservato senza giudizio, per non offendere una comunità intera che partecipa in maniera sentita a questo evento. Momento di fede, momento di riflessione a guardia Sanfromonti? Beh, si è sempre in tempo per fare penitenza, quindi anche a mare da cui ieri sera sono tornato, sono stato alla Vergine a Gallipoli, quindi diciamo che sono uno che pratica anche la Chiesa perché sono un cristiano. Questa cosa qui è sacro profano ma credo che bisogna viverla per quella che è, quindi polemiche non ce ne devono essere, non ci deve essere gente che rema contro ma bisogna rispettare quella che è la tradizione dei guardioli, dei guardienzi, non so come si chiamano e dare un contributo anche di presenza perché la presenza di tutta la Campania, di tutta l'Italia è un momento di grande aggregazione, di grande fiducia rispetto a quello che questa tradizionale manifestazione è. Comandante, una macchina organizzativa importante, un'organizzazione che rasenta la perfezione, bravi. Io credo che sia impeccabile, ho visto veramente un'organizzazione che non fa acqua da nessuna parte e spero che tutto si svolga fino a stanotte nel migliore dei modi perché Benevento, la provincia di Benevento deve dare anche dimostrazione che è all'altezza di tenere a galla determinati eventi. Una macchina organizzativa importante, il vostro contributo ancora più importante, come sta andando? Una macchina è partita alla grande, ovviamente non solo come comitato di San Lorenzello che ha la giurisdizione sul territorio ma con la collaborazione di tutti i comitati della Campania che hanno dato il loro apporto con mezzi, con professionisti, con sanitari e con un coordinamento sia regionale ma anche nazionale, abbiamo dei mezzi all'avanguardia che arrivano direttamente dal comitato di Roma e il fiore all'occhiello, il coordinamento tra tante forze che hanno lo stesso emblema. La Croce Rossa italiana è sinonimo di volontariato, quanti ne siete? Siamo ben più di cento, ben più di cento oggi tra volontari, operatori di primo soccorso, tra sanitari, rianimatori, tutte le equippe infermieristiche, un numero importante e noi come comitato di San Lorenzello circa la metà dei volontari abbiamo fornito per la manifestazione, importantissimo il contributo del comitato di Benevento che ci ha dato un grosso momento e del comitato regionale che ha coordinato tutto attraverso il delegato Feula. Riti settennali, settimana di penitenza, una comunità che si riunisce intorno all'assunta. Che cosa c'è dietro, professore? Allora, l'ipotesi di fondo su cui abbiamo lavorato dal 2010, perché noi abbiamo rilevato i riti del 2010, del 2017 e stiamo rilevando i riti del 2024 e che dietro, sotto, intorno, insomma ognuno poi lo può dire come vuole, c'è la comunità di Guardia San Framondi. E quando si parla di comunità di Guardia San Framondi evidentemente bisogna tenere presenti i vari aspetti della realtà culturale, della realtà religiosa ovviamente, ma anche della realtà economica produttiva. E poi quando in particolare si parla dei riti, e questo è un dato storicamente provato, la comunità di riferimento non è esclusivamente quella di Guardia San Framondi, che naturalmente rimane il perno principale, ma a costruire i riti partecipa una comunità territoriale più ampia del comune. Fino alla fine degli anni 70, a prescindere dai riti, Guardia San Framondi era il comune più grande, anche economicamente parlato, e baricentrico della Valle Telesina. E questo è un dato che stranamente viene trascurato, perché per esempio durante le ricerche degli anni 70 e la produzione di quegli anni emerge che Guardia San Framondi fosse un paese in cui la miseria materiale e culturale fosse il dato inequivocabile, laddove invece, approfondendo e anche non troppo complessa, diciamo in maniera complessa, si evinceva un'altra realtà, appunto, che Guardia San Framondi è una realtà economicamente dinamica, ma non solo economicamente, culturalmente, socialmente e quindi anche sul piano religioso. E' passato un quarto di secolo dai anni 2000, le proiezioni future di questo rito che risalgono al 600? Guardi, le proiezioni, come dire, se si fondano sui dati evidenti dicono che i riti continueranno e naturalmente, come hanno sempre fatto, continueranno a modificarsi ad ogni edizione. Nonostante che ormai il web e i social trasformino tutto. E' certo, anche i riti saranno influenzati dai nuovi media. In realtà, se uno va in giro in questi giorni, va, per esempio, nel santuario, va nelle chiese, va mentre i misteri si organizzano, vede che i riti sono cambiati. E quindi è un dato dell'evidenza. E' come quando è stata introdotta la macchina fotografica, la cinepresa. I riti sono cambiati e si sono adeguati. Ma la fede poi resta? La fede è un'altra questione. Quando si studiano i riti, si applicano i principi e le teorie delle scienze. La fede è un'altra questione. Per cui mischiare la fede e la scienza è una cosa quantomeno ingenua, se non addirittura banale. Un momento di identità sincera e intensa, questa di Guardia San Framondi. Il fatto che si perpetui nei secoli ormai una tradizione, non è soltanto una forma di consuetudine, ma anche legata ad una tradizione di fede. Per alcuni è più accentuata, per altri un po' meno, magari per quelli più giovani un po' meno, però per gli altri invece ha una risonanza veramente incredibile. Poi c'è sul piano antropologico un riconoscimento sul piano mondiale. Cioè questo è un atto di fede penitenziale che viene ogni sette anni. Anche questo non è una ritualità annuale, per cui è già una sorta di inflazione, di parareligiosità. Assolutamente no. Quindi questo è davvero un fatto molto molto importante. Il fatto che ci sia questo richiamo, non soltanto a Provinciale, ma anche al di fuori, che arriva in tutta Italia, sono amici miei professori universitari, che mi hanno chiesto di avere oggi un posto per vedere, valutare, censire, scrutare. E questo la dice lunga, sull'entità, sull'effetto ontologico, direi, del dato dell'essere, di questa forma di tradizione che non diventa mai opaca, ma sempre più ridente e lussureggiante. È un palcoscenico internazionale, come diceva lei, che porta il sannio oltre i confini dell'Italia. Beh, così. Non sono tantissime amministrazioni che toccano bene la provincia, questo è uno di quelle. A questo punto di vista direi, se avessi fatto ogni anno, diamo maggior credito, invece ogni sette anni, però proprio perché ogni sette anni ha una sua dimensione, una sua polarizzazione di attenzione, cosa che invece perdebbe di effetto emotivo se arrivasse ogni anno. Nonostante l'evoluzione dei social e del web, la fede resta sempre. Beh, quello sì, uno ce l'ha o non ce l'ha, quello è un dono, come diciamo nei cristiani, quello è un dono, uno ce l'ha o non ce l'ha, però anche chi non ce l'ha, insomma, guarda queste cose, ha questa forma di riti, diciamo, che risalgono nel corso dei secoli, ma guarda anche con rispetto e con attenzione, il che è giusto anche dal punto di vista laico. Una comunità che si riunisce ogni sette anni intorno alla Madonna Assunta, è un momento solenne? Ma direi proprio di sì, conoscendo poi molti guardienzi, a cominciare dal sindaco, conosco bene quella che è la passione, quella che è l'unione che riesce a creare questo evento e mi va di pensare allo sforzo organizzativo, a quanti nel tempo non ci sono più e quindi questa cosa che si tramanda nei sette anni, dove tante cose cambiano, ma si riesce sempre a trovare questa unità del paese, infatti dicevo una mia amica, poc'anzi, di guardia, Sandra, riusciamo noi ad essere una sola cosa per questa manifestazione e già questo è un grande miracolo che fa la Madonna. Poi voglio dire, è veramente un'emozione, un'emozione anche rispetto nei confronti di chi partecipa anche con sofferenza, perché vedere questi colpi che si danno, cioè è una cosa di grande rispetto per quanto mi riguardo, perché comunque sofferenza, comunque devozione, comunque dare qualcosa di sé e per la Madonna che speriamo ci guardi dall'alto e ci possa sempre salvaguardare in questo mondo che sta cambiando tutto, dove non c'è più l'unità di intenti, dove non c'è più solidarietà, dove c'è cattiveria, c'è invidia, ci sono le guerre. Quindi speriamo che tutto questo anche di oggi, questa sofferenza e questa partecipazione grande da parte di tutti possa servire affinché illuminimenti, affinché possano finire queste guerre che tanto danno stanno facendo alla comunità mondiale. Senatrice, un monito alle nuove generazioni, perché questa è una settimana di penitenza, nonostante l'evoluzione dei social e del web, la fede resta sempre. Ma sì, direi proprio di sì. Infatti sempre la mia amica mi diceva, Sandra, sette anni fa non avevo i figli, adesso ce l'ho e già piccolini partecipano. Quindi voglio dire, è una cosa importante. I social sicuramente aiutano in questo caso, quando vengono ben usati ovviamente, per diramare questo messaggio, questo messaggio di amore, perché comunque amore, comunque amore per la tradizione, per la cultura, per quello che è stato il nostro passato e chi non riconosce il passato non può certamente pensare al futuro. Un palcoscenico internazionale per tutta la Valle Telesina, Sindaco, anche per Paupisi. Sì, Paupisi è una comunità che è molto vicina a Guardia San Framondi e siamo ben lieti di partecipare a questo evento. Facciamo sentire la nostra vicinanza, perché Paupisi è stato uno dei paesi che custodiva le chiavi della Teco, dove era custodita la Madonna dell'Assunta. e rinnoviamo questa tradizione. Ogni sette anni siamo sempre qui, vicini alla comunità di Guardia San Framondi. Signor Perfetto, una manifestazione importantissima, una macchina organizzativa importante. Sì, è una manifestazione molto importante e ci stiamo lavorando già da 7-8 mesi, spero che vada tutto bene, ma è stato tutto programmato con grande cura e grande diligenza. Questa manifestazione porta il Sannio in un palcoscenico internazionale, una grande vetrina e soprattutto una grande importanza. Sì, è una manifestazione molto importante, ogni sette anni c'è una grande attesa e soprattutto c'è una grande cultura dietro, centenaria. Riti settennali, un momento di fede, il contributo del comune di San Salvatore Telesino. Sì, in rappresentanza della comunità san salvatorese, l'amministrazione comunale di San Salvatore Telesino a partecipare a questo straordinario evento religioso che si tiene qui a Guardia San Framondi ogni 7 anni. Un evento che coinvolge tutta la valle Telesina in termini di fede. La Madonna di Guardia, anche per noi san salvatoresi, anche per le interferenze e le continuazioni che ci sono tra San Salvatore e Guardia, è venerata dai san salvatoresi. E lei da dove viene? Da Formia. Che motivo l'ha spenta a Venere? La curiosità. Devo dire, l'ho visto sempre solo in televisione, ho detto andiamo di persona, vediamo un poco. Lei ci crede, signora? Beh, questo è sacro e profano. Però certe cose si devono vedere, fanno parte della vita, delle nostre tradizioni. Ci credi o non ci credi, te lo vedi. È un momento di fede questo a Guardia San Framondi? Certo, anche perché io personalmente ho sangue, anche se non vivo a Guardia San Framondi, ma nelle mie vene bolle sangue e guardi uolo. Da dove venite? Da Irola. Caserta. Cosa vi spinge? Il rito, il rito in seppesse. Poi è un fatto proprio di penitenza, di vedere questo corteo. È interessante, anche per un fatto storico e tradizionale. È la prima volta che venite a vedere i riti settennali? No, no, non è la prima volta, no. Abbiamo notato dei cambiamenti di organizzazione, ma non è la prima volta. La prima volta a Guardia San Framondi? No, ero piccolina con la prima volta. Di dove sei? Foglianise. Che esperienza porti da sette anni ad oggi? Ero piccola, quindi il ricordo è sfocato, però è un'emozione. Ci credi? Sì. Come va la manifestazione? Penso benissimo, come sempre. Ogni sette anni è sempre il club. È un'emozione venire a Guardia San Framondi? Sicuramente. Abbiamo trovato un ambiente molto accogliente, molto bello. Un momento di fede e un appuntamento importante. Da dove venite? Io vengo da Firenze, siamo venuti da Firenze. Abbiamo dei parenti qui e abbiamo approfittato della visita proprio per venire a vedere quest'evento importante che ci coinvolge e commovente. È un momento di fede e di penitenza. Sì, sì. È un momento di fede e di penitenza e una cosa un po' rara in questi tempi e quindi è bene assaporarlo fino in fondo. È un evento unico in Europa, questi dei riti penitenziali della Madonna Assunta di Guardia. Sì, sì. È un evento unico, forse anche mondiale, non solo che europeo. e noi siamo venuti proprio, è coinvolgente. Io da stamani sono un po' cobosso. Una miscela sincera di devozione e di paganità, i riti di guardia ogni sette anni, Presidente. È un momento di una situazione di grande religiosità e di grande solennità anche. Ovviamente è chiaro che è un rito che dura da secoli, perlomeno da 400 anni. Si può discutere ovviamente sulle caratteristiche di questo rito e di questo evento, di questa processione, ma insomma è un modo per raccogliere il bisogno di sacro, di divino, di trovare, come dire, e avere un contatto con i valori fondamentali della vita, della religiosità che toccano ognuno di noi. Ovviamente è un evento anche di grande folclore, di grande attrazione turistica. In questo periodo la popolazione dei guardia San Framonti si moltiplica per quattro. Alla processione partecipano 200.000 visitatori fedeli. E dunque è un evento importante, è un richiamo turistico, culturale, religioso. Presidente, un quarto di secolo del terzo millennio, oggi i riti che iniziano nel 600. Dopo tanti anni alle soglie di questo mondo virtuale, non cambia nulla. La comunità è unita, nonostante lo sfilacciamento che c'è in circolazione. Dicevo che si può ragionare sulle caratteristiche di questa processione, sui battenti, sulla flagellazione. Ovviamente bisogna domandarsi perché da almeno 400 anni questo evento così forte si riproduce dura. La risposta è semplice, raccoglie un bisogno di sacralità, di divino. Come dire, un bisogno che va al di là della quotidianità e perfino al di là delle nostre esistenze. Ecco, per questo dura, perché raccoglie comunque un bisogno profondo. Poi ci sono tanti modi, ovviamente, per esprimere la fede, la religiosità. Ma il fatto che duri da secoli testimonia di una domanda profonda che è presente nell'animo dei cittadini. Sette anni passati a preparare questa manifestazione, la Regione Campania molto vicina a questo evento qui a Guardia San Framondi. Come sempre, credo che sia uno degli eventi più importanti della nostra provincia. Si ripete ogni sette anni. Cerchiamo, sì, di essere vicino ad eventi del genere, a comunità del genere, a giornate come questa che uniscono interi paesi, interi territori, una provincia intera. E quindi siamo qui con il giusto senso di raccoglimento che si deve questa mattina a questa straordinaria processione. È un evento, questo dei riti settenali, che porta la Valle Telesina su un palcoscenico internazionale? Sì, assolutamente sì, come pochi. E credo che assolutamente stamattina l'afflusso straordinario di gente, di istituzioni e quindi vicinanza, a Tukur, a quello che sta accadendo è segno inequivocabile dell'interesse che c'è. Abbiamo ascoltato tante voci, Elena. Vorrevo chiederti a te il simbolismo e le dinamiche di questi riti settennali. I riti settennali di Guardia San Framondi sono innanzitutto una manifestazione che ci identifica come comunità. Una comunità che si incontra di settennio in settennio in cui le dinamiche cambiano ma in effetti sono sempre le stesse di settennio in settennio. C'è una dinamica che porta la processione ad essere una processione di fede, di penitenza che unisce un popolo. Un popolo che comunque organizza questo evento nell'espressione di identità. Il simbolismo che si manifesta ogni sette anni che dura ogni sette giorni comunque ricorre il numero del sette continuo che comunque ha un suo significato anche nella Bibbia nella storia. Quindi questo simbolismo che comunque ci ricorda tante cose come esperta come studiosa ma soprattutto come cittadina di Guardia San Framondi credo che questo sia un evento unico un evento unico che va vissuto nel rispetto della fede nel rispetto del popolo nel rispetto della Vergine Assunta che comunque è il simbolo che ci unisce questa fede che comunque ci rende un popolo unico nel suo genere. Che rappresenta il numero sette Elena? Il sette cioè rappresenta comunque un numero religioso cioè che comunque viene vissuto anche nella Bibbia cioè un numero che ci dà sette giorni sette anni e comunque viene ripetuto continuamente comunque all'interno di questo evento quindi magari per gli studiosi per gli antropologi per gli storici comunque viene ripreso continuamente anche nei libri che sono stati fatti negli studi quindi credo che sia un numero importante ma diciamo il settennio ogni sette anni noi di Guardia ci identifichiamo proprio in questo numero sette anni che per noi rappresentano diciamo anche un momento di di condivisione di unione soprattutto cioè io vedo il popolo di Guardia che di settennio in settennio si ritrova si ritrova in questo momento che io definisco e lo definisco lo ribadisco di fede perché è un momento di fede e quindi anche penso che tutti gli studiosi tutti gli antropologi tutti coloro che hanno fatto dei lavori su questo fenomeno comunque hanno sempre rispettato l'evento religioso per quello che è e spero che anche in futuro tutti gli studi che saranno fatti siano rispettati e riportano questa simbologia che rappresenta l'intero rito che va ogni sette anni allora Elena il prossimo appuntamento è fra sette anni con i riti penitenziali di Guardia San Framondi Sì io mi auguro che fra sette anni l'evento resti sempre unico nel suo genere che il popolo di Guardia sia sempre una comunità così unita che si identifica in questa manifestazione religiosa e che la Vergine Assunta in cielo ci protegga sempre e che noi di Guardia insomma abbiamo una fede preziosa definirei quindi mi auguro che fra sette anni comunque tutti i cittadini si ritrovino in questa occasione con la speranza di vivere al meglio anche fra sette anni l'intero evento Riti settennali di penitenza una sintesi veloce La sintesi io posso darvela dalla prospettiva dell'International Infopoint perché quest'anno il sindaco ha voluto creare un punto informativo dove tutti i guardiesi all'estero potessero trovare accoglienza quindi io vengo da Benevento sono Nilla Liucci e ho avuto l'onore attraverso Futura Idea di avere questo tra virgolette questa collaborazione in aiuto appunto a questo progetto di apertura del territorio al turismo di ritorno quindi ci auguriamo che il sindaco vi dia subito notizia di questo evento particolare che stiamo preparando per il turismo di ritorno e di cui è già pronta la grafica ci stiamo già lavorando e sono sicura dai nominativi che ho raccolto che ancora una volta il cuore di Guardia Sanfromondi arriverà ai guardiesi all'estero Quali sono le località più lontane che lei ha visto qui nella data odierna? Allora ho visto Australia ho visto Canada ho visto America Latina e poi tanta tanta Europa Italia? Beh di Italia sì diciamo che non sono passati per il mio ufficio però gli italiani che ritornano qui a Guardia sono tutti ospiti delle famiglie anche dei guardiesi Lei pensa che fra sette anni con questa evoluzione dei social del web possa esserci una diversa connotazione dei riti Guardi se lei ha notato i quadri che quest'anno sono splendidi e molto numerosi delle contrade e soprattutto io ho visto in questa settimana i ragazzi che erano tutti impegnatissimi al di là del telefonino perché non hanno guardato il telefonino quindi io credo invece che con un linguaggio diverso i prossimi sette anni faranno la differenza davvero Riti settennali Guardia San Framondo è un impegno importante della Croce Rossa italiana come è andata? è andata bene diciamo che la Croce Rossa ha strutturato bene le varie postazioni in maniera da garantire poter offrire alla popolazione soprattutto a tutti gli intervenuti il giusto supporto abbiamo avuto diversi interventi circa una cinquantina di interventi tutti risolti devo dire in otte brillantemente abbiamo anche trasferito uno o due pazienti abbiamo centralizzato in ospedale per delle problematiche un po' più importanti però siamo riusciti grazie all'organizzazione che era stata messa in piedi da Croce Rossa a risolvere la maggior parte dei problemi qui sul posto e questo diciamo è stato ideale anche per evitare poi di intasare i percorsi già occupati dalla manifestazione credo che diciamo abbiamo dato una buona prova sia organizzativa sia per quanto riguarda la capacità insomma di risoluzione delle problematiche che si sono presentate quindi siamo contenti e soddisfatti spero che insomma anche la popolazione sia altrettanto soddisfatta un evento importante questo dei riti settennali una enorme presenza di turisti di curiosi e di fedeli qual è stato l'intervento più importante e quello anche meno importante diciamo che gli interventi prevalentemente sono stati interventi legati a diciamo a episodi ipotimici quindi le classiche svenimenti per capirci quindi cali di pressori cali di zuccheri questi sono stati diciamo gli interventi prevalenti abbiamo avuto anche qualche intossicazione una di queste l'abbiamo centralizzata abbiamo ancora in diciamo nella nostra struttura ancora qualche paziente una in particolare che stiamo monitorando da un po' per un problema un po' più importante stiamo comunque lo stiamo gestendo qui evitando appunto di centralizzarlo quindi in linea di massima diciamo questi sono stati gli interventi su cui siamo stati impegnati Dottore la Croce Rossa italiana nel Sannio c'è questa è una bella squadra e quindi un complimento a tutti i collaboratori sì devo dire che la Croce Rossa risponde sempre bene ad ogni ad ogni richiamo e ognuno di noi ovviamente ognuno di noi fa anche altro però quando c'è la necessità siamo pronti a offrire la nostra disponibilità per la Croce Rossa che a sua volta è sempre disponibile ad intervenire e a supportare qualunque attività si generi diciamo sul territorio il fiore all'occhiello di una sanità che ha tante carenze sì sicuramente è un supporto importante lo vediamo con il 118 lo vediamo con queste manifestazioni sicuramente rientra in quel percorso in quel circuito che consente che consente di supportare le attività sanitarie sul territorio e coadiuvare anche quelle ospedaliere tanto volontariato tantissimo volontariato come dicevo prima la maggior parte di noi fa altro però poi quando c'è necessità quando siamo chiamati ad intervenire ognuno di noi si rende disponibile per supportare in maniera nel miglior modo possibile insomma le richieste di Croce Rossa e del territorio queste sono le belle cose del Sannio la Croce Rossa italiana nella sezione di Benevento complimenti grazie grazie a voi grazie a tutti grazie ai collaboratori che sono stati certo che sono stati veramente brillanti in ogni occasione ognuno di loro ha saputo rendersi protagonista in positivo manca ancora la moto medica perché è su un altro intervento quindi con un altro medico e un altro operatore che ripeto sono su un altro intervento in questo momento quindi veramente grazie a tutti i collaboratori Salvatore Follo che è stato il coordinatore un po' del diciamo della parte dell'organizzativa Salvatore le criticità di questa manifestazione e le positività delle iridi settennali ma le criticità sono quelle di una organizzazione come quella della Croce Rossa che partiva da uno zero perché è la prima volta che ci cimentiamo in queste manifestazioni così grandi con una partecipazione così ampia di popolazione ovviamente le criticità vanno di pari passo con quelle che sono poi le cose belle del nostro lavoro abbiamo portato a termine con successo un sacco di interventi e ci serve eventualmente per migliorare la nostra organizzazione per altri eventi a cui parteciperemo sicuramente La Croce Rossa italiana è fatta di volontariato chi si vuole avvicinare alla Croce Rossa italiana che cosa deve fare? Si può rivolgere ai vari comitati che sono dislocati sul territorio in modo tale che vengano istratati su un percorso che dà grosse grosse soddisfazioni il nostro presidente Giovanni De Michele è una persona che coinvolge molto su questo asset del volontariato per cui noi siamo fieri di far parte di questa squadra La Croce Rossa italiana risponde con la coniugazione di tante sezioni Esatto Comitato di San Lorenzello Comitato di Benevento Ercolano Napoli ma tanti siamo stati tanti comitati ci siamo trovati insieme abbiamo lavorato una catena di montaggio anche se tra di noi non ci conosciamo tutti perché San Lorenzello magari non ha lavorato tante volte con Ercolano è stata una catena di montaggio faticosa ma una catena di montaggio e viva il volontariato L'Italia è una nazione leader per il volontariato dottoressa e questo bisogna dirlo e queste cose vengono dal cuore La Croce Rossa ce l'hai nel cuore io lo dico sempre i nuovi volontari quando facciamo i corsi base a San Lorenzello dico sempre Croce Rossa ce l'hai nel cuore perché queste cose le puoi fare solo se ce l'hai nel cuore quindi viva la Croce Rossa abbiamo lavorato tanto abbiamo lavorato bene perché ci è bastato uno sguardo a volte a dire arriva Pio a dire arriva il dot aiutami è bastato uno sguardo perché viviamo la stessa sensazione di dare perché poi dai 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 tanto Che bella che sei Grazie Com'è stata? Bella però un sacco faticosa soprattutto per il caldo È faticoso stare qui a guardia? No, no Un momento cruciale per tutta la comunità è un grande sacrificio Tantissimo con tutto il cuore La fede per Maria Assunta ha questa connotazione È la nostra madre tutto per lei Vale la pena ogni sette anni fare questo intervento con i riti settennali? Sì tantissimo Noi veniamo da Campobasso lui invece no viene da Telese Che esperienza avete avuto in quel di guardia San Framondi? È stato molto emozionante è stata la prima volta che ho assistito ad una cosa del genere molto bello Che cosa vuoi segnalare per questa processione? Allora io segnalo innanzitutto di comprendere bene anche il perché viene fatta questa vengono fatti questi settennali perché comunque è una tradizione molto particolare che non è facile vedere nelle altre regioni È un'azione di fede? È un'azione di fede sicuramente ma anche a livello proprio culturale penso che ogni persona debba addentrarsi proprio in queste strade per vedere proprio cosa succede come vengono effettuate tutte queste tutte queste processioni ma anche appunto soprattutto tutto quello che riguarda la penitenza l'atto della penitenza eccetera secondo me è molto bello Siamo nel quarto di secolo del terzo millennio secondo te questi atti di penitenza che valore possono avere? Sicuramente è una cosa anche molto soggettiva dipende molto dalla persona dal valore che ne dà la persona quindi appunto un atto soggettivo di penitenza e il valore viene attribuito appunto da il valore che quella persona dà a quel determinato atto Sono già stato nel 2017 seguito ai riti settennali devo dire che quest'anno li ho sentiti veramente in un modo molto particolare soprattutto pensando a quello che ci sta succedendo in questo periodo e forse questo può anche essere un momento di riflessione un modo per pensare a quello che stiamo facendo per il nostro mondo e magari anche avere un pensiero riguardo anche al prossimo forse stiamo stiamo diventando un po' troppo appunto egoisti Voi credete ragazzi? Allora io personalmente non credo ma rispetto molto le persone che credono anche io rispetto molto le persone che hanno questa fede perché al contempo hanno anche determinati valori riescono a far accrescere appunto i principi tutto quello che ha anche a che fare con le tradizioni appunto di un paese quindi se non si perdono queste cose secondo me si ha tanta ricchezza Riti Settennali 2024 un resoconto e soprattutto un grande successo la macchina organizzativa è funzionata alla perfezione Sì la macchina organizzativa ha funzionato ha funzionato per un impegno che c'è stato nel tempo molto meticoloso molto puntuale da parte della prefettura da parte della questura da parte delle forze dell'ordine di tutti da parte dei Vigili del Fuoco della Croce Rossa effettivamente c'è stato veramente anche con testardaggine con voler assicurare che questa manifestazione si svolgesse nel modo più sicuro nel modo diciamo più sereno dando la possibilità a chi oggi in modo copioso è venuto a guardia a celebrare questa nostra festività la festa dell'Assunta e i nostri riti settennali quest'anno 2024 il cui appuntamento ora è fessato nel 2031 Guardia San Framonti ha dato dimostrazione di un atto di fede importante Sì un atto di fede importante che già nei giorni passati si aveva contezza si poteva toccare una partecipazione molto silenziosa molto partecipata di grande rispetto e questo lo voglio sottolineare da parte di chi è a corso a guardia perché questo ovviamente ha consentito anche che i misteri i quadri questi quadri viventi effettivamente si potessero svolgere nel migliore del mondo non ci sono state interferenze fotografi televisioni tutti veramente hanno rispettato questa nostra celebrazione in onore della Vergine Assunta e niente siamo siamo contenti siamo contenti poi il resoconto lo faremo dopo l'8 settembre che sarà la data di un altro importante appuntamento quello in cui ci sarà la chiusura della lastra l'orgoglio di guardia nel mondo abbiamo visto tanti guardienzi ritornare nelle proprie origini e partecipare a questo evento ma anche l'intera Valle Telesina l'intera Valle Telesina ha sempre partecipato credo che sia crescente questa partecipazione ma quello come diceva lei che tocca in modo profondo è la presenza di tanti emigrati che sono tornati ma non è tornato chi originariamente era emigrato negli anni sessanti è tornato il nipote questo a dire che la radice della diciamo dell'identità guardiese non si è mai smarrita quindi i nonni hanno raccontato i padri hanno raccontato ai figli i figli hanno raccontato ai figli quindi questo voglio dire questa fede verso verso l'assunta non è un qualcosa che viene fuori così in modo estemporaneo viene fuori perché il guardiese anche intanto all'estero anche trasferendosi come dire portandosi quelle che erano i suoi affetti lasciando i propri affetti lasciando la propria casa però ha sempre mantenuto viva questa fede verso l'assunta e ha mantenuto viva soprattutto la guardiesità se così vogliamo dire quindi questo attaccamento al paese questo ci dà orgoglio ci fa ci rende veramente felici 2031 il prossimo appuntamento ai nostri amici telespettatori ma sicuramente come dire venite venite e soprattutto il fatto di partecipare è un dato molto importante perché in tal modo evitiamo tante polemiche evitiamo considerazioni che forse non appartengono a questa festività è una festività anomala una festa anomala senza bancarelle senza luminarie senza eventi musicali è una veramente una festività di partecipazione penitenziale perché in questo modo noi riteniamo che il giorno dopo per ognuno di noi possesse effettivamente una rinascita una rinascita morale una rinascita di fede e questo credo che mantiene e dà forza anche al senso comunitario del nostro del nostro paese per l'info Grazie.